45-34 con le immagini andiamo al terzo quarto tra il Centro Alcobaino Basket Solofra e il Santa Maria a Vico un confronto nel tabellone della dodicesima giornata del torneo di serie D di basket siamo nel girone B, girone dominato dal Cab Solofra che nelle prime 11 uscite ha raccolto 11 successi ad inseguire il Cab Solofra c'è Ercolano, la formazione che è riuscita a tenersi più vicina alla squadra della cittadina conciaria con quattro lunghezze di distanza poi troviamo Tecmania Battipaglia, Capomiseno, Caserta, Parete, Santa Maria a Vico, Felix Napoli, Roccarainola, Torre Annunziata, Volla e Aster Saviano in questa giornata si affrontano Volla, Torre Annunziata, Capomiseno, Felix Napoli, Parete, Caserta, Tecmania Battipaglia, Ercolano, Aster Saviano Roccarainola, il tentativo a canestro del numero 17 Vannella, 5 punti per lui, 36 punti di squadra, 45-36 Giannicelli, Giovanni Esposito, Giannicelli, Giannicelli, De Vito, Napodano, Esposito e Gasparri, questo è il quintetto di Solofra Ruocco che chiude su Napodano, strappa qualche applauso ai tifosi presenti qui al palazzetto dello sport di Vesta Antaluccia, Gasparri per Giannicelli Giannicelli che si gira, Giovanni Esposito, Gasparri recupera palla, ci prova, Gasparri non va ma c'era il fischio dell'arbitro in precedenza ora la sfera restituita al numero 17 Vannella l'inquadratura per il tabellone, si è andato un minuto poco più, 45-36, 9 lunghezze tentativo di Napodano di anticipare l'avversario, non va Salanti, Salanti siamo dalle parti di Guarino, numero 13, Guarino, opposizione di Esposito c'è il fallo fischiato a Giovanni Esposito, andiamo ad annotare un altro fallo per Esposito su Guarino, numero 13, avrà la possibilità di colpire due volte dalla lunetta questo terzo quarto solo fra partito con un vantaggio di 11 punti ed ora Santa Maria Vieco che ha la possibilità di realizzare un piccolo break vediamo un po', Guarino non va il tentativo di Guarino dalla lunetta l'errore del numero 13, realizzato tre punti fino a questo momento Guarino, secondo tiro libero Guarino, sbaglia, corta la conclusione, doppio errore dunque per Guarino situazione di punteggio che resta invariata Napodano per Giannicelli, ancora Napodano l'inquadratura è per lui, Esposito Giannicelli c'è De Vito, la palla persa da Giannicelli, recuperata da Guarino Guarino, c'è Vannella sotto canestro, se ne disinteressa Guarino di marzo l'errore dunque di Guarino numero 5, Salanti Esposito, Salanti non va De Vito, Giannicelli ottima l'azione di De Vito sotto canestro De Vito, Giannicelli Napodano buona la difesa del Santa Maria Vieco Giannicelli sbaglia, l'ultimo a toccare è stato il numero 17 Vannella dunque possibilità per Solufra di ripartire dalle mani del numero 19 Gasparri che lascia poi a Napodano Napodano attende che si dispongano i compagni poi serve De Vito, su di luce di marzo Giannicelli siamo dalle parti di Giovanni Napodano De Vito, il fallo commesso dal numero 14 Ruocco che indica immediatamente all'arbitro di aver commesso fallo contemporanea non va dalla lunetta si riparte dal fondo con Napodano Napodano fuori per il tentativo di Giannicelli che non va ancora Giannicelli, fuori per Napodano Giannicelli, il movimento su Ruocco poi Napodano posizione di Salanti Napodano si gira a Napodano cerca ma non trova il canestro la bella uscita si riparte da De Vito Gasparri Gasparri sotto c'è esposito poi Giannicelli Giannicelli Napodano Napodano De Vito tentativo di De Vito che non va c'è Giovanni Esposito che lotta sotto canestro altri due punti per Esposito 12 il punteggio personale di Esposito 47 di squadra solo fra avanti di 11 Guarino Guarino ci prova il fallo commesso da Gasparri protesta di De Vito se no l'indicazione del fallo è proprio su De Vito e allora Guarino 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 dalla Lonetta di Marzo e De Vito Guarino primo tentativo a canestro Guarino ancora due su due questa volta l'ha sbagliato in precedenza nei due tentativi Guarino porta Santa Maria a Vico a quota 38 47 Solufra 38 Santa Maria a Vico il fallo su Giannicelli commesso dal numero 5 Salanti si riparte da Giovanni Napodano Giannicelli Di Lauro Giannicelli Giannicelli Napodano Enzo Di Lauro errore di Di Lauro palla recuperata da Salanti Di Marzo forse c'era inflazione di passi Di Marzo la mette dentro 14 punti per Di Marzo che divene miglior realizzatore dell'incontro porta Santa Maria a Vico a quota 40 7 lunghezzi ora separano Solufra dal Santa Maria a Vico Solufra raggiunto il massimo vantaggio di più 16 ora 7 punti di vantaggio costantemente avanti Solufra sin dal primo istante di gara Enzo Di Lauro per Giovanni Napodano Napodano a canestro Napodano da 3 l'indicazione dell'arbitro 15 punti per Napodano Solufra che sale a quota 50 e si riporta a più 10 dopo 4 minuti di gioco del terzo quarto Solufra 50 e da 2 e da 2 anzi no è l'arbitro che richiama l'indicazione è da 3 50 a 40 abito che invita Ruocco ad evitare proteste inutili peraltro Salanti Salanti Guarino Guarino Vannella chiuso Renzo Di Lauro Coppola recupera in qualche modo Coppola la tengono in campo Vannella Di Marzo la tripla di Di Marzo Di Marzo assegno 17 punti 17 punti per Di Marzo Giannicelli Napodano Giannicelli Giannicelli ora Coppola il tentativo di Coppola la palla che non va Giovanni Esposito il fallo commesso dal numero 17 Vannella su Giovanni Esposito intanto time out sul punteggio di 50 a 40 guardatura al tabellone 50 a 43 chiedo scusa in precedenza c'era stato il tiro da 3 di Di Marzo 5 e 12 da giocare 5 e 12 Napodano Esposito per Giannicelli Giovanni Esposito chiuso Coppola fuori la possibilità di scaricare per Napodano Coppola ci prova però forse subisce fallo ma si prosegue Salanti 3 contro 1 a canestro il numero 14 Ruocco 6 punti per lui 45 punti di squadra 5 punti di vantaggio per Solofra Coppola Coppola Giannicelli Giannicelli Coppola ancora Giannicelli Napodano non va recuperata da Esposito è assegnata proteste del Santa Maria Vico in particolare quelle di Ruocco all'indirizzo dell'arbitro Napodano 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 Di Lauro Giannicelli Napodano ancora il fallo commesso dal numero 5 Salanti Coppola Coppola Rimettere in moto la gara Giannicelli Coppola Esposito alle uscita l'ultima a toccare è stato il numero 5 Salanti 50 a 45 Coppola Giannicelli Napodano tentativo di Napodano a canestro altri due punti per Giovanni Napodano 17 punti 52 Solofra 45 Santa Maria Vico Solofra la giocata di Ivannella Giannicelli Esposito Giannicelli per Coppola chiuso da Ruocco Coppola riporta la palla dalle parti di Giannicelli ora Enzo Di Lauro Coppola si muove bene Coppola tabellone e canestro per lui altri due punti per Coppola e sale a quota 8 come punteggio personale 54 il punteggio di squadra andiamo a dare uno sguardo al tabellone 3 minuti 36 secondi da giocare del terzo quarto 54 Solofra 45 per il Santa Maria Vico se l'ha portato sul 50 a 45 ora Solofra che prova a rispondere fallo antisportivo le proteste Giovanni Napodano che può colpire dalla lunetta saranno due tiri liberi per Giovanni Napodano anzi no ti dentro un punticino Napodano allora la sfera restituita a Coppola Coppola per Gianni Celli si gira Gianni Celli fallo del numero 13 Guarino su Gianni Celli nuovo time out chiesto da Coach Ceravolo Gianni Celli può colpire dalla lunetta Gianni Celli a canestro Gianni Celli a segno due punti per Gianni Celli che sale a quota 13 come punteggio personale 56 a 45 Solofra che si riporta avanti di 11 a segno Guarino 7 punti per lui 47 a 56 sono fra avanti di 9 ora Napodano Gianni Celli Gianni Celli Napodano Di Lauro Coppola Coppola fuori per Giovanni Napodano si libera di Monillo Napodano non va Esposito a canestro Esposito 14 punti per Giovanni Esposito 58 sono i punti di squadra più 11 Solofra di Marzo a canestro di Marzo rabbia di Giovanni Esposito 49 19 punti per Di Marzo miglior realizzatore dell'incontro Gianni Celli Coppola Napodano Di Lauro è uscita l'ultima a toccare è stato il numero 14 Ruocco Coppola Coppola Napodano Gianni Celli da fuori la tripla di Gianni Celli la tripla di Gianni Celli 16 punti per lui 61 per Solofra 49 per Santa Maria Vico più 12 Solofra di Marzo non va cioè Giovanni Esposito che lotta Di Marzo che recupera palla intervento dell'arbitro Esposito si torna sotto il canistro del Santa Maria Vico con Giovanni Esposito che ha subito fallo 61 a 49 Esposito primo tentativo a canistro 62 a 49 Esposito non va 62 a 49 i punti per Giovanni Esposito sono 15 62 a 49 più 13 Solofra Moniello ha perso per un istante il controllo Moniello su di lui Enzo Di Lauro ora di Marzo c'è Esposito a coprire Moniello a voto Enzo Di Lauro Moniello ci prova da 3 non va Napodano ora Esposito Gianni Celli Napodano da una parte da una parte all'altra del campo Napodano risistema anche la retina con questo canistro 19 punti per Giovanni Napodano siamo 64 a 49 siamo agli sgoccioli di questo terzo quarto con solo fravanti di 15 seguiamo Moniello Moniello per Guarino tentativo di Guarino che non va allora Esposito Gianni Celli Gianni Celli Napodano Esposito Coppola non va cioè Esposito che lotta sotto canestro Di Marzo una parte all'altra del campo Di Marzo Gianni Celli che la recupera poi il fallo commesso da Coppola su Di Marzo siamo ad annotare il fallo del numero 10 Coppola di Marzo potrà colpire dalla lunetta di Marzo migliore realizzatore insieme a Napodano 19 punti per il numero 30 19 i punti per il numero 7 del Cab Solofra fuori Coppola in campo c'è spazio per il numero 12 Pisano 64 a 49 di Marzo di Marzo di Marzo assegno di Marzo 20 punti per Di Marzo 50 punti di squadra di Marzo 51 51 Santa Maria Vico 64 Solofra di Marzo raggiunto quota 21 come bottino personale è il miglior realizzatore Gianni Celli tra quelli visti in campo quest'oggi al palazzetto dello sport di via Santa Lucia Solofra Gianni Celli da 3 Gianni Celli 19 punti Solofra che sale 68 a 51 Gianni Celli l'indicazione dell'arbitro fallo si riparte delle mani di Enzo Di Lauro Gianni Celli Gianni Celli Napodano Esposito ci prova non va allora Pisano Pisano Napodano non va Esposito tentativo di Esposito scomposto guardatura per il tabellone in chiusura di terzo quarto 68 Solofra 51 Santa Maria Vico ultimo spicchio di gara qui al palazzetto dello sport di via Santa Lucia il centro Arcobaleno basket Solofra in divisa bianca e gialla un vantaggio di 17 punti sul Santa Maria Vico che vedete in divisa bianca e azzurra padroni di casa intanto a segno di marzo 23 punti per lui 53 di squadra padroni di casa costantemente avanti con un massimo vantaggio di 17 punti fatto registrare proprio in chiusura di terzo quarto precedenza 16 lunghezze più 10 il divario minimo era stato di 5 lunghezze dopo chiaramente l'accelerazione di inizio partita questo è ovvio c'è intanto il fallo ai danni del numero 6 Moniello commesso da Gianni Celli solo fra caccia del dodicesimo successo stagionale significherebbe mettere in fila un numero di successi pari al numero degli incontri fin qui disputati solo fra non ha ancora conosciuto una sconfitta in questa stagione questo la dice lunga sullo stato di salute di questa squadra De Benedictis con il 5 il 6 Troisi il 7 Napodano realizzato 19 punti fino a questo momento l'8 Esposito realizzato 15 punti 19 punti anche per Gianni Celli il numero 10 Coppola realizzato 8 punti con il 12 Cepisano il 15 De Vito realizzato 4 punti poi Enzo Di Lauro numero 16 realizzato 2 punti poi con il 18 Tambor il 19 Gasparri il 20 De Maio può essere soddisfatto per quanto visto fino a questo momento Cocci Annacone assegno intanto la bomba di Moniello 11 punti per Moniello 56 di squadra con il 5 per il Santa Maria Vico Salanti il 6 Moniello 11 punti per lui l'8 di Vico 2 punti il 9 Carfora il 13 Guarino realizzato 7 punti Ruocco con il numero 14 realizzati 6 di punti con il 16 Mirotto 5 punti per Vannella numero 17 il 19 Laudiero 23 i punti di Di Marzo che ha colmato il gap nel corso della gara ha cercato di tenere i suoi più possibili incollati alla capolista Cab Solufra quest'oggi il tabellone 8 minuti 12 secondi da giocare prima del suono della sirena 12 punti di vantaggio per Solufra 68 a 56 in precedenza non avevamo annotato il punticino realizzato da Napodano e quindi sono 20 punti realizzati da Napodano miglior realizzatore per Solufra questa sfida 2 per il titolo di miglior realizzatore tra Napodano e Di Marzo De Vito che sbaglia ma c'è intervento falloso su De Vito intervento falloso di Moniello De Vito dalla lunetta pronto a colpire non va De Vito secondo tentativo a canestro De Vito 5 punti per lui 69 a 56 allora Vannella di Marzo tentativo di Marzo tabellone canestro c'è il fallo fischiato a Pisano numero 12 del Cab Solufra Pisano il fallo per lui larga le braccia Pisano c'è l'indicazione comunque dell'arbitro che consentirà a Di Marzo di colpire per due volte dalla lunetta vediamo un po' cosa riesce a fare il numero 30 perfetta la parabola che consente di mettere dentro il 57esimo punto di squadra 24esimo personale Di Marzo a canestro 25 punti per Di Marzo per il Santa Maria Vigo la soglia dei 58 punti raggiunta 11 lunghezze separano gli ospiti dai padroni di casa Coppola Coppola c'è intanto il fischio dell'arbitro segnalare il fallo commesso dal numero 16 Napodano Napodano Pisano De Vito Di Lauro e Coppola questo è il quintetto per il centro arcobaleno basket Solofra ora Coppola Coppola Di Lauro palla intercettata ora Di Lauro per De Vito sbaglia De Vito ci arriva Rocco provava a servire in velocità di Marzo sbagliato sbagliato Rocco allora si ripartirà con il Cab Solofra Pisano con il numero 12 per Coppola Coppola De Vito Pisano Enzo Di Lauro Napodano Napodano l'errore di Napodano non ci poteva arrivare De Vito allora si riparte con il Santa Maria Vico punteggio di 69 a 58 11 lunghezze di vantaggio in questa dodicesima giornata il Cab Solofra ospita il Santa Maria Vico a Volla invece basket Volla Club Torre Annunziata poi Palacanestro Capomiseno Felix Napoli basket Parete Cus Caserta il tentativo intanto a canestro di Marzo andiamo errati dovrebbe essere un tentativo da tre 28 punti per Di Marzo 61 per il Santa Maria Vico tabellone che si chiude con Aster Saviano Rocca Rainola ora Enzo Di Lauro il fallo fischiato al numero 6 su Di Lauro fallo di Moniello Enzo Di Lauro che ci prova dalla lunetta primo tentativo per Di Lauro fuori Napodano intanto per Solofra Enzo Di Lauro tiro libero per il numero 16 Di Solofra ha realizzato due punticini per fino a questo momento Di Lauro erroraccio ancora Di Lauro secondo tentativo Di Lauro a canestro va la restituita a Solofra con Coppola tre punti per Di Lauro 70 Solofra 61 Santa Maria Vico Giannicelli Gasparri Coppola Coppola per Gasparri da quest'altra parte non aggancia Enzo Di Lauro allora si riparte dal numero 16 Mirotto Mirotto per Moniello Moniello Mirotto l'audiero di Marzo di Marzo ci prova la tripla di Marzo 31 come punteggio personale 64 a 70 Solofra avanti di 6 Giannicelli Di Lauro vale uscita ora Moniello fuori Enzo Di Lauro in campo Giovanni Esposito nel quintetto di Solofra 70 64 5 minuti 41 secondi da giocare per mandare in archivio questo confronto Solofra che vede Santa Maria Vico avvicinarsi vantaggio di 17 punti ora 6 i punti che separano Solofra da Santa Maria Vico fischio dell'arbitro che interviene per segnalare l'irregolarità commessa da Santa Maria Vico allora si riparte da Gasparri Giannicelli attettativo di chiusura di De Vito Giannicelli che ci prova è da 3 Giannicelli Giannicelli 22 punti per lui diventa miglior realizzatore dell'incontro per Solofra 73 punti quelli realizzati da Solofra fino a questo momento 64 per Santa Maria Vico fuori non va il tentativo di Vannella la tripla ora la palla recuperata da Gasparri che la rimette in gioco a beneficio di Giannicelli la tripla di Solofra che riallontana Santa Maria Vico De Vito si gira Esposito poi preferisce servire Giannicelli ancora un tentativo da 3 Giannicelli che non va riparte Santa Maria Vico con Di Marzo c'è Moniero Moniero la chiusura operata da Giannicelli il fallo commesso dal numero 9 del Cab Solofra per Moniello la possibilità di colpire dalla lunetta 73 a 64 il punteggio i parziali 27 a 15 45 a 34 e poi 68 a 51 27 15 45 34 68 51 ora siamo sul 73 a 64 a segno Moniello riporta un po' più vicino Santa Maria Vico a Solofra Giannicelli Giannicelli per Gasparri buono il taglio di Gasparri che trova la collaborazione di Coppola un tiro da due ma c'era l'infrazione di commessa da Gasparri e allora si ritorna con la palla tra le mani dei cestisti in divisa Biancazzurra Vannella per Moniello Moniello di marzo Luigi Gasparri prova a girarsi di marzo trova lo spazio non trova però la parabola giusta Esposito c'era la pressione di Ruocco si difende bene Esposito Giannicelli Giannicelli per De Vito anticipato allora di marzo da quest'altra parte posizione fallosa di Giannicelli su di marzo che ha la possibilità di colpire dalla lunetta di marzo numero 30 miglior realizzatore dell'incontro con ben 31 punti realizzati di marzo ha portato a casa metà del punteggio di Santa Maria Vico assegno ancora di marzo sale a quota 32 come punteggio personale di marzo 69 i punti realizzati da Santa Maria Vico 73 Solofra Giannicelli Napodano De Vito quest'altra parte per Coppola ora Esposito ci prova ora 3 Esposito non va c'è Ruocco che recupera ora Moniero Moniero per di marzo di lui Napodano di marzo la palla dalle parti di Mirotto non va il rimbalzo di De Vito Giannicelli Giannicelli Napodano De Vito si gira bene sotto canestro De Vito a segno Solofra si riporta più 6 di marzo ci prova la 3 la tripla che non va c'è Napodano De Vito Esposito Giannicelli Giannicelli Monillo poi Napodano Napodano ancora l'errore Esposito la tiene in campo poi Annicelli Monillo attenzione a questa fase di gioco di Solofra che per un istante ha perso un po' le misure assegno assegno il numero 14 Ruocco 8 punti per lui a canestro Ruocco il cambio intanto fuori il numero 16 Mirotto c'è spazio per Salanti Ruocco dalla lunetta numero 14 subito fallo andato a canestro in precedenza Ruocco assegno ora De Vito Napodano Napodano Esposito perde palla sfera che è rientrata nel campo di Solofra la pressione di Santa Maria Vico su Solofra con Monillo ora la giocata di Vannella di Marzo il tentativo di Marzo che non va Esposito Napodano Iannicelli De Vito sbaglia De Vito il rimbalzo di Monillo poi Salanti in frazione di passi di Salanti Coccia Naccone che richiama i suoi guardatura per Napodano Coppola proprio Napodano che riceve palla invita i compagni a sistemarsi Napodano Coppola movimento Coppola scarica per Esposito De Vito Palla persa da De Vito Salanti Salanti ancora di Marzo di Marzo chiuso da passaggio però Moniello sotto canestro ci prova la palla è uscita ci prova il numero 17 Vannella scivolato battendo fronte e gomito fuori Vannella De Vito Coppola anzi no aspettare che venga asciugato un po' il fondo di gioco l'inquadratura del tabellone 1 e 29 un minuto 29 secondi da giocare con quattro lunghezze che separano Solofra e Santa Paria Vico un vantaggio di 17 punti ad inizio dell'ultimo quarto ora sono quattro le lunghezze potete comprendere chiaramente la tensione di Gocciana con in panca Coppola Coppola ora fuori per Napodano ci provarà 3 Napodano non va ma c'è sposto sotto canestro fuori Napodano Napodano De Vito si gira De Vito a canestro 77 Solofra 71 Santa Maria Vico 6 punti di vantaggio time out si riparte da Moniello ora Ruocco Di Marzo giocata di Di Marzo chiuso Napodano Napodano ha perso palla ma ha subito anche fallo protesta di Di Marzo farlo farlo ai danni di Giovanni Napodano che ha la possibilità di colpire dalla lunetta 77 a 71 allora il tentativo di Napodano primo tiro libero per il numero 7 a canestro Giovanni Napodano 78 punto per Solofra 21 per Napodano le proteste di Ruocco non fanno altro che determinare altri due tiri liberi per Solofra Napodano inquadratura di Mimascolese per il tabellone 78 a 71 40 secondi tre decimi precedenza c'era stato però il tiro realizzato da Napodano Napodano assegno secondo tiro libero ha chiamato il tecnico su Ruocco proteste le proteste di Giannacone qui non abbiamo davvero compreso le indicazioni dell'arbitro si ripartirà con Coppola la palla assegnata a Solofra siamo sul punteggio di 80 a 71 Coppola a Canestro Coppola a Canestro Coppola l'ora di marzo sfera all'indietro solo fravanti di nove punti dalla persa gli annicelli Coppola a Canestro Coppola 83 a 71 e si chiude qui il confronto tra il centro arcobaleno basket Solofra e il Santa Maria Avvico 83 a 71 il risultato finale Solofra che mette in fila 12 successi in 12 partite le proteste di coach Charavola ai danni degli arbitri il saluto mezzo al campo Solofra che si conferma capolista del girone B del campionato di serie D di basket da Salvatore Walter Pompa al commento e Mimmascolese alle riprese tutto appuntamento al prossimo impegno casalingo del centro arcobaleno basket Solofra B Sì Sì